buonasera ragazzi eccomi qua ho cenato bello tranquillo e adesso facciamo come fa il promattologo mi stanno massacrando il promattologo fa così ragazzi come fa mi stanno massacrando bene ragazzi allora non mettiamoci a fare troppe stupidate allora volevo solo dirvi che il prossimo metodo sarà regalato di nuovo a 100 persone tutti quelli che hanno ricevuto il metodo mio quello lì terzine cicli su bari cagliari volume 3 e non mi hanno mandato lo scontrino lo scontrino non riceveranno un cavolo di niente perché ormai eliminerò tutte le persone che chiedono 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 e non mi mandano nemmeno lo scontrino per il resto chi ha mandato lo scontrino riceverà di la nuova previsione da terzine cicliche che sta spaccando alla grande grande poi volevo dirvi un'altra cosa perché il promattologo dice che lui senza percentuali senza percentuali però si fa pagare l'abbonamento adesso vi spiego una cosa lo sapete perché non fa le percentuali promattologo perché se ha 100 abbonate e si fa pagare 20 euro ad abbonate si incassa 2000 euro però se invece da 100 persone una previsione con la percentuale non esce un cavolo di niente il promattologo non incassa niente ecco perché odia le percentuali mentre rosario gallo le percentuali quando da un metodo con la percentuale logicamente se non esce niente non pagate niente mentre al promattologo pagate comunque l'abbonamento la capite la differenza fate fate dita il promattologo io ti pago dopo che ho vinto l'abbonamento vedete quante volte vi bloccherà vi bloccherà 301 volte mentre rosario gallo non blocca nessuno quando dalla previsione con il la previsione soddisfatti o la previsione o il metodo soddisfatti lo pagate dopo aver incassato c'è una grande differenza quindi vedete chi è più cosa conviene di più pagare un tot dopo andrà dopo essere andati a incasso oppure pagare un abbonamento senza sapere chissà se se andrete in casa poi vi fa vedere uno scontrino di un terno uno solo e gli altri 100 200 persone non prendono un cavolo 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 bene detto questo ragazzi facciamo vedere un po di scontrini se no il promotologo mi dice che ha fatto vedere un solo scontrino e invece ne facciamo vedere più di uno e ripeto sta mi stanno massacrando di scontrini come dice il promattologo andiamo avanti ragazzi vediamo qualche scontrino facciamo vedere facciamolo vedere al promattologo cosa dice il popolo che ha vinto gratis con il mio regalone qualcuno mi scrive poco ma ho vinto grazie contenta la persona che ha messo i numeri insieme contenta lei contenti tutti mi stanno massacrando un altro scontrino grazie mille ambo questo questa persona è stata richiamata perché ha messo il lambetto rosario calo con tre numeri non mette il lambetto questi 50 centesimi sul lambo erano di più che mettere 50 centesimi sul lambetto del promattologo avesse visto ragazzi mi stanno massacrando mi squilla il telefono mi sta scoppiando ecco un'altra testimonianza eccola qua ragazzi ragazzi purtroppo vi illudete con le cinquine con il super analog per dire che succede cose che sono sono proprio un'illusione vincere quaterno e cinquine e purtroppo è il quello che attira tutti voi basta che io se io vi dico vi do il metodo le terzine cicliche oppure le cinquine cicliche su bari cagliere e correte tutti ma io non vi illudo ragazzi non vi vado a dire le cinquine cicli su io vi do le terzine cicliche per ambo eterno perché è un diciamo un obiettivo raggiungibile centrare un terno secco ma centrare una quaterna secca una cinquina secca è un obiettivo proprio illusorio illusorio perché è quasi impossibile almeno che c'è una botta di cioè quelle lì pesanti ma sicuramente la vincerà una persona non cento né duecento né mille persone ma una sola se qualcuno mi fa vedere più di un solo scontrino di una quaterna mi dico che è un grande ma le deve avere più di una di una quaterna è più di una della cinquina ma questo non succederà ragazzi ma se succede proprio un caso su un miliardo un miliardo di persone un caso su un miliardo anche di più di un miliardo diciamo anche 200 miliardi 300 un milione di miliardi che succederà che qualcuno mi farà vedere più di un una quaterna o della cinquina centrata ragazzi potrei continuare a farvi vedere scontrini contro scontrini e fare come fa il promotologo mi state massacrando il telefono sta scoppiando adesso devo spegnerlo perché se no mi va in tilt il telefono però non vi vengo a dire tutte queste stupidate per attirarvi a me a me non mi frega niente se venite a farvi l'abbonamento con me o se non lo fate mentre a questi personaggi il solo interesse è fare abbonamenti quando vi danno la previsione gratuita è perché devono farvi vedere che sono capaci e poi attirarvi a fare l'abbonamento con me potete stare tranquilli potete anche non fare l'abbonamento non mi frega più di tanto faccio vedere ancora qualche scontrino poi la finisco qui se no facciamo durare il video un giorno e mezzo ma lo so che tanto nessuno vedrà fino alla fine il video ma sono qui solo per dirvi che registratevi a non registratevi iscrivetevi a questo canale che ben presto non adesso ma ben presto darò di nuovo un regalo quindi farò sempre i primi anzi vediamo se riusciamo a fare i primi 200 ma sapete non è che io ho il tempo come il promattologo io faccio l'operaiologo mi sveglio la mattina alle 6 vado a farmi le mie otto ore di lavoro e quindi non ho il tempo che ha il promattologo di dare a tante persone stare sul youtube o fare 200 video su youtube perché il promattologo dovete sapere una cosa quando esce qualcosa mi fa 3 4 5 video ma voi non sapete che questi 4 5 perché ve li fa secondo voi perché per farvi vedere oltre quello perché poi con la pubblicità è bello fare 4 5 video così si incassa di più e poi vi dice che tutto gratis tutto gratis non ho mai sentito nessuno che fa tutto gratis c'è sempre un interesse ricordatelo nella vita qualsiasi persona ha un interesse se vi regala qualcosa ha sempre il ritorno il ritorno di fare abbonati e farvi entrare nel suo gruppo abbonati quindi le favole le può raccontare a voi ma non a me vedere qualche altro scrontino poi vi faccio vedere anche il terno che ha fatto una persona che ha aggiunto qualche numero come fa il promattologo aggiunto il numero ha fatto terno oppure fa il mio metodo di dei miei 100 metri di ha fatto il terno però loro loro il promattologo fa con sei numeri rosario gallo quando fa i terni li fa con tre numeri e non con sei numeri ricordatelo sempre e ragazzi beh io sinceramente vorrei finirla qui questo faccio vedere quest'altro scontrino a devo far vedere quello del terno aspettate che vado a farvi vedere anche quello del terno questo è lo scontrino grazie infinite ambo delle rezzine del sistema che ha dato in omaggio ieri ieri ragazzi ieri primo colpo ieri primo colpo primo colpo andiamo a vedere lo scontrino del terno ed eccolo un bel terno ragazzi un bel terno il la persona che ha ricevuto il mio metodo ci ha messo del suo guardate fatto il g il terno aggiunto altri numeri il mio 22 61 e il 67 è della persona che ha ricevuto il metodo e adesso facciamo come fa il promattologo e allora un 50 e 50 no non è un 50 e 50 perché devo dire che un 70 per me è un 30 del della persona che il metodo perché se io ho dato due numeri e uno l'ha messo la persona abbiamo fatto il terno 70 per cento in merito mio e 30 per cento della persona giusto ragazzi giusto facciamo come fa il promattologo ragazzi allora io la finisco qua vado ad elaborare a elaborare la nuova previsione terzine cicliche su bari cagliere prima o poi spacchiamo con il terno chi vuole entrare nel mio gruppo privato dove darò la nuova previsione mi contatta su mio whatsapp ok inute che ci giriamo intorno tutte le persone che regalano compresi promotore lo fa scopo di fare abbonati quindi non vi illudete che ve lo fa gratis perché siete più belli o siete più forti di cose devo dire ormai sapete benissimo la persona regalo per attirarvi a fare l'abbonamento e quindi chi vuole io lo dico bello chiaro e tondo chi vuole la nuova previsione delle terzine cimè terzine cicliche su bari cagliere logicamente c'è ci sarà il volume 4 dove cercheremo stavolta di centrare il terno secco ma non ve lo assicuro non lo darò mai per scontato ma almeno io al massimo miro al terno non alla quaterna la cinquina perché è un'illusione vera e propria un'illusione che vi danno per attirarvi ancora di più nel gruppo abbonati rosario gallo non vi da questa illusione se la volete la quaterna ora cinquina ve la do anch'io perché ci sono tanti modi per calcolare ma dirvi dirvi che ci proviamo centrare la cinquina una cosa troppo grande troppo grossa ci possiamo provare ma vi ripeto per me è un'illusione anche se non nego tante volte ci ho provato anch'io a mettere anche 10 centesimi sulla cinquina ma sta cinquina non è uscita nella da quando faccio lotto io ho centrato una quaterna tutta non di più ma è stato veramente un caso su un milione ed è stato un solo scontino e non 100 scontini perché quella persona che l'ha giocato ha giocato anche a tutti mentre avevo dato sulle ruote è una persona sola ha centrato la quaterna quindi non illudetevi troppo non fatevi illude perché il tante persone vi danno 20 metodi poi fanno vedere che hanno centrato la sono andato in casa con un metodo di di due anni fa o il metodo che hanno dato dieci mesi fa o il metodo hanno dato cinque mesi fa ma se andate a notare quando soltanto quando poi veramente hanno in casa loro fanno 20 video a ora 20 video ogni ora per farvi vedere che sono dei grandi dei grandi ma di che dei grandi ma di che ve lo ripeto di cosa l'operaiologo ero stato definito l'operaiologo da questo questo persona che continua a illudere perché con tanti iscritti uno becca sicuramente qualcosa vi continua a illudere è mi aveva definito la persona rosario gallo uno che non capiva niente di lotto io gli sto dimostrando che forse chi non capisce proprio di lotto è proprio il promattologo una serata a tutti da rosario gallo da previsione vincenti punto it grazie a tutti 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 grazie a tutti